Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Allora, questo è un video super improvvisato ma che secondo me può essere molto rilassante Allora, sto facendo da circa questo primo pomeriggio, ora sono quasi le 6 Quindi avrò cominciato intorno alle 3 e mezza, poi vi faccio vedere tutto Abbiamo fatto il giardino di casa, io, mia mamma e mia sorella E mi scuso per i rumori che sentirete ma come vi ho detto questo video è improvvisato E sono tutta onda perché mi sono riempita il corpo di crema e protezione solare Proprio perché facevo un crancaldo ho anche il microfono, diciamo, così in bella vista Cosa che non mi piace molto ma è giusto per dare, diciamo, un contesto e questo video Per spiegarvi un pochino quello che andremo a fare Allora, sono in pessime condizioni, spero non sia un problema per nessuno Quindi, quello che andremo a fare è semplicemente, io mi sono comprata questa mattina al vivaio Dei fiorellini da mettere qua nel giardino Non ho il pollice verde, amici, purtroppo con me qualsiasi cosa crepa Proprio detto volgarmente Però mi sono piaciuti tanto, sono dei fiorellini molto semplici Ci ho nelmeno speso tantissimo perché se poi, insomma, muoiono, mi dispiace Poi magari cambierò tipologia di fiori a livello successivo Magari spero che durano, dirò ok Ora ho già delle piantine dentro questi, insomma, vasetti che ho sul terrazzo Però le andrò a togliere da lì e andremo a mettere del terriccio nuovo per le nuove piantine E nulla, c'è mia via che strastrilla, strastrilla mi piace E, ah, vi volevo dire anche che sono molto contentissima Oggi sono, non lo so, sono stata in mezzo alla natura E, boh, sono quasi epiche Mi sto inventando dei termini che nemmeno esistono comunque, va bene Stavo dicendo che vi ringrazio per i bei commenti dell'ultimo video E sono molto felice che abbiate condiviso quello che io non sopporto Comunque presto arriveranno anche i 5 cose che amo Così intanto per continuare questa serie E vediamo se siamo ancora in accordo Bene, detto questo, io spero che il video vi piaccia Lo possiate trovare rilassante o comunque innovativo Non lo so, non credo di aver mai visto video ASMR del genere Quindi, let's go Allora, amici, eccoci qua Ho messo anche la spugna al microfono Perché c'è tanto, tanto, tanto vento Allora, parliamo da qua Cerco di entrare, diciamo, dentro il balcone, le righette Come vedete ancora è un disastro Perché abbiamo Allora, qua praticamente era pieno, pieno, pieno di erbe Ok, mi sono messa in maniera tale che possiate avere la visuale migliore Allora, questa qua è una vigna Però si vede un po' male, devo dire Provo qua Come vedete ci sono tante goccettine Che alcune abbiamo messo Tipo questa rosa Anche queste tre Non mi piacciono moltissimo queste goccette in realtà Però avevamo queste Quindi abbiamo usato queste Poi, queste sono delle piante tipo timo Questa non lo so che cos'è È mia mamma e mia sorella l'esperta di piante Io, come ho detto, non ho il pollice verde Comunque, qua c'era questa Che provo a sommare un pochettino E come vedete Questa Dov'è? Eccola È l'aloe Abbiamo fatto delle puche con questo attrezzo qua Io ho fatto delle puche Ebbene sì E anche per questa che è una rosa rampicante Mi hanno detto dalla regia E andrebbe a rampicarsi appunto in tutta questa rete Allora Bene Ora che mi sono pantata della grande fatica Che ancora siamo in altissimo mare Guardate quanti secchi Quante terre da sfare Insomma C'è ancora un sacco, un sacco da fare E niente Ah, qua Qua in alto Guardate Si vedono molto male Questa bella pianta di fichi Ma questa qua è in lontananza E c'è neanche un'altra più piccolina Che si è portata via al vento Però Non è morta C'è un vento pazzesco Comunque sono delle piante di Banano E niente Non vedo l'ora che diventino Grandi Grandi Mi piacciono molto le piante tropicali Infatti qua Come vedete C'è anche Una bellissima palma Ma questa è proprio Esecolare È stata messa circa vent'anni fa Comunque Niente Direi di cominciare Subitissimo E vi spiego Quello che vado a fare io Invece Allora Praticamente Il mio lavoro adesso È di togliere Tutte queste piantine E poi se le occuperà mia mamma Che è molto più brava Quindi Comincio subito a sterrarle E a metterle qua Questo È un polisterolo Non so Era da buttare Io l'ho recuperato Per appunto portare giù Al giardino Tutte le piantine Senza insomma Danneggiarle Troppo Allora Io comincio Ok Ora procedo con questa Eh ma questa viene male Ecco Ho fatto i danni Tappos Non so Con questo faccio Per Ho Amami Ora Mi Mi Nonno Di Patria Muse Ok, sicuramente non nella maniera Migliore, ma comunque ci sono anche delle cecchè Sono una cattiva cittadina Le ho buttate nelle coccette Comunque, ecco qua Ora le porto giù, do una pulita qua Perché ho fatto un disastro E ci vediamo con la Insomma, il riempimento di queste Con le nuove piantine Ecco Allora, queste sono le piantine Non so onestamente che tipo di piante siano Petunie Po, non lo so Se fossero Petunie C'è una storia dietro questo nome Mi fa un sacco ridere E praticamente A me mi chiamavano Petunia Per far capire Insomma che sono un rompiscatole Quindi se ti chiami Petunia Mi fa molto ridere Comunque Adesso metto il concime qua dentro E No, il concime Metto la terra Dopo questa qua la tolgo E la metto direttamente là Però lo faccio Io penso off camera Perché ragazzi Il mio terrazzino è piccolo Ci provo Vediamo che nasce fuori Ed ecco qua amici Questo è stato il risultato finale E io mi sono divertita molto Devo dire E niente Su una cucina Mi mancava un fiorellino E appena potrò Lo andrò a prendere Ci ho messo Praticamente questo Che si era staccato Da delle cucine Ci ho mettere Oать foto Jaja Tocchio C'è Andrò C'è C'è D' iniciativa C'è Grazie.